Auto, certificazione elettronica, niente più carta, cioè si potrà compilarla direttamente su un'app del telefonino per girare a trani e per chi arriva in città nei giorni in cui vige la zona rossa. L'applicazione è stata sviluppata da alcuni giovani del posto, Ticheto si chiama per le esigenze del comando di polizia locale e delle altre forze dell'ordine. Basta compilarla una volta e poi si rigenera automaticamente dando la possibilità di modificare solo i campi necessari. Per convalidarla c'è bisogno della firma da porre direttamente con l'uso del touchscreen del proprio smartphone. Quando si viene sottoposti a controllo l'autocertificazione potrà essere acquisita tramite QR code o codice numerico univoco. Sarà attivo per cinque minuti, se non utilizzato scadrà e bisognerà rigenerarlo. Acquisita l'autocertificazione l'autorità potrà verificarla all'istante ed inoltrarla all'indirizzo email specificato nella policy del trattamento dei dati personali. Tutto attraverso gli smartphone diventa assolutamente anche molto più rapido da verificare, da controllare perché attraverso la lettura del codice di fatto si immagazzina direttamente l'autocertificazione attraverso quelle che sono praticamente a livello informatico. Certamente questo non significa che si potrà barare attraverso la tecnologia, tutt'altro perché poi quelle autocertificazioni verranno verificate, verranno controllate, saranno soggette a controllo e quindi eventualmente anche a sanzione. Io mi auguro di no perché mi auguro soprattutto di trovare nelle zone rosse, nei giorni di zona rossa, una città assolutamente tranquilla e sotto controllo.